Equilibrio Dinamica Ansambra nasce nel 2014 creando fin da subito un ambiente di qualità e versatile dove i giovani danzatori possono così riconoscersi, scoprirsi e capire quali sono i propri punti di forza maturando così la conoscenza e la consapevolezza attraverso ospiti internazionali. I giovani danzatori entrando in contatto con tante realtà e tanti artisti possono così avere un panorama completo di quello che è oggi lo scenario contemporaneo. L'ensemble permette di sviluppare una ricerca intima e personale della propria poetica favorendo non solo un lavoro individuale ma anche di gruppo. Cadute e recupero sono i punti cardini del lavoro Kickstart, un lavoro che nasce nel 2015 per la compagnia Equilibrio Dinamico oggi riallestito per un gruppo di dieci giovani danzatori selezionati in Equilibrio Dinamica Ansambra. Internazionale è il cast di questo riallestimento, giovani danzatori non solo italiani ma anche provenienti dal Belgio, dalla Spagna e dall'Olanda. Legato profondamente alla relazione del corpo con le leggi universali della fisica, il concetto di cadute e recupero provoca un sottile intrecciarsi di scansione fisica e risposta psicologica, stabilisce vari gradi di intensità che Doris Hambre chiamò qualità di movimento. Kickstart nasce da questa consapevolezza dove ogni movimento in danza esiste già per natura.